si va in gita all'acquario tulala e non ad uno qualunque all'acquario di genova bellini siamo appena entrati all'acquario e già ci sono i paparazzi ci hanno fatto una foto allora qua abbiamo la vaschetta coi cavaducci marini quello con uno scogli in isola mi hanno detto che quella è una murena a me sembra una parte dello scoglio però cioè vedete sembrano finte siamo sicuri che siano murene vere? pronto buon appetito signor otaria cosa mangia? dell'insalata? ecco il pesce sega, guarda che sego uno comunque qua siamo nella vasca del polpo, polipo come cacchio si dice e questo stronzo si è nascosto però no? si vuole far vedere ed ecco a voi la bavosa ecco la ficca e la foca Quanto mi piace la foca, la foca ferosa, guardala lì Brilla, brilla la stellina Si stacca, e staccati, non si stacca Ecco qua i plini, i pinguini, brutti, sadici, bastardi che non siete altri Questa qui è la vasca tattile delle razze, guarda Ciao, buonasera, vuole fare un video? Ecco qua, buonasera, guarda, cosa fai con il barattolo? Guarda, 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 ciao Buonasera, che fai? Esibizionista, oh, così ti chiappetti il coso E per finire in bellezza la giornata faremo un bel giretto in barca Ma non è questa però, questo è solo un galeone finto dei pirati Volevo fare il giro lì ma è fermo, non si può, volevo fare il pirata Grazie Grazie